Un servizio da e per l'ospedale di Schiavonia che vuole essere un'opportunità per i cittadini che possono arrivare in treno alla stazione dei treni di Monselice e poi con un servizio gratuito, prenotabile tramite app, possono recarsi nell'ospedale di Schiavonia. Un ospedale a cui ovviamente l'afferenza di popolazione è un'afferenza importante di cittadini per visite mediche, visite specialistiche ma anche laboratori, personale dell'ospedale e studenti di scienze infermieristiche che sono circa 250 gli studenti che ogni giorno si rivolgono a questo ospedale. Il servizio su Schiavonia è un servizio già noto e già promosso da questo ente ed era un servizio con una tarifazione ridotta del 50% partita a settembre del 2022 ma la novità del Quibus adesso è che il servizio è completamente gratuito quindi si vuole agevolare più possibile l'utenza e renderla un'utenza che utilizzi il trasporto pubblico locale nel pieno della propria efficienza del proprio servizio. Quest'iniziativa grazie anche al sostegno di un fondo regionale che la provincia ha avuto dà la possibilità di utilizzare questo Quibus e quindi questo servizio a chiamata in maniera gratuita a consunzione logicamente di quelli che sono i fondi quindi si prevede che questi fondi possano durare fino a giugno del 2025 in ogni caso una volta consunti i fondi riinizia un percorso logicamente che è quello del contributo anche del cliente nei confronti della provincia e dell'azienda stessa insomma nel pagamento del ticket però questa dà la possibilità di poter riavviare questo percorso agganciando quelle che possono essere le esigenze dei clienti nella mobilità collettiva. Grazie